Musica Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari, consegnata all'area archeologica di San Pietro a Barivecchia dove inizieranno i lavori per la valorizzazione del sito e anche una installazione dello scultore Edoardo Tresoldi. Vediamo. È tutto pronto per l'intervento di scavo sull'area archeologica di San Pietro, volto a dividenziare la completa estensione dell'area e lo sviluppo degli edifici antichi da valorizzare. I lavori nell'ottica della valorizzazione del sito archeologico che si trova nel borgo antico della città, il cui sottosuolo racchiude una stratigrafia che a partire dall'età del bronzo racconta pressoché, senza soluzione di continuità, tutta la storia dell'antica Bari. L'intervento prevede la realizzazione di percorsi attrezzati di visita, impianti di illuminazione, di un centro servizi e di una installazione artistica realizzata da Edoardo Tresoldi, finalizzata a rendere in modo suggestivo e coinvolgente i volumi e gli ingombri degli edifici sacri, la chiesa di San Pietro e l'attiguo convento francescano che una volta si ergevano nell'area. La consegna del sito questa mattina è la presenza del sindaco Antonio De Caro e del segretario regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, Maria Piccarreta. Quest'opera servirà a valorizzare proprio gli scavi che con le loro stratificazioni ci raccontano la storia della nostra città e su quel racconto vogliamo costruire quest'opera di arte contemporanea di Tresoldi che servirà anche a valorizzare quest'area e a scrivere il futuro di questa città, convinti che questo scorcio della città diventerà uno dei luoghi più famosi al mondo. Quindi oggi abbiamo voluto dare riscontro di questo inizio perché comunque riceviamo l'area appunto dalla città metropolitana, cominciamo questo cantiere in quanto appunto sono state espletate da parte del segretariato i miei funzionari, hanno espletato tutta la parte degli appalti relativi a questa prima fase e quindi ci sembrava una data importante da sottolineare. E' stata inaugurata questa mattina e aperta al traffico la nuova strada realizzata da Fall tra via Tatarella e la rotonda di via Mattarrese. Mazzitelli e Scrivà nell'ambito del progetto Strade Nuove. Due quartieri che si ricongiungono attraversando nel mezzo via Tatarella, l'arteria più importante nell'ambito del progetto Strade Nuove. È stata inaugurata a Bari la nuova viabilità di raccordo tra la rotatoria di via Mazzitelli, via Mattarrese, via Scrivà e l'asse che dal ponte Adriatico raggiunge il Tondo Rossi, collegato direttamente alla tangenziale. Si tratta di una delle opere realizzate da Fall, d'intesa con Comune di Bari e Regione Puglia, nell'ambito del più ampio programma Strade Nuove che incrocia viabilità stradale, ferroviaria e pedonale. Il progetto che è nato per l'eliminazione di due passaggi a livello è un dato importante, è quello che Ferrovia Pro Lucane da anni sta appunto lavorando per eliminare i passaggi a livello perché significa aumentare in maniera consistente gli standard di efficienza e di sicurezza. La strada che apriamo oggi è sicuramente l'arteria più importante. La nuova viabilità che sarà operativa già da oggi con il completamento della rotatoria di via Tatarella entro fine marzo ricongiungerà il quartiere Picone e Poggio Franco. Nell'ambito di questo stesso programma rientrano tra le altre anche la rotatoria di via Mazzitelli, l'anello di circolazione di viale Solarino, l'altra rotatoria di viale Pasteur e il vicino sottopasso ciclopedonale con la soppressione del passaggio a livello di via delle Murge e il raddoppio della linea ferroviaria che va verso Matera. Speriamo di chiudere tutto il progetto entro il 2023. La regione nel frattempo ha reperito ulteriori 5 milioni e 6 per un altro intervento al di fuori del progetto Strade Nuove e che è l'interamento del passaggio a livello di strada Santa Caterina che verrà sostituito con un sovrapasso stradale. Operatori a confronto, ieri pomeriggio a Porta Futuro per rappresentare il risultato del progetto Un Bando, Un Negozio non è solo un negozio, sostenuto dal Comune di Bari. Vediamo. Tutti i commercianti che hanno aderito al progetto Un Negozio non è solo un negozio oggi si incontrano con dei tavoli tematici, volevamo per parlare di commercio ma soprattutto di prossimità. Quindi cosa accade nella nuova scena del commercio barese grazie anche al Bando Un Negozio non è solo un negozio, una sorta di patto tra i cittadini e gli esercizi commerciali. Sei stanze tematiche per presentare al pubblico quello che sarà il nuovo scenario del commercio barese. Le aule di Porta Futuro si trasformano in un grande palcoscenico dove gli operatori baresi che hanno risposto al Bando Comunale Un Negozio non è solo un negozio hanno presentato i loro progetti. 94 le proposte di sviluppo commerciale avanzate dai commercianti che oggi raccontano con soddisfazione i loro risultati. Alcuni progetti già messi in campo, altri ancora in cantiere. Il mio progetto è quello di creare una web radio con una doppia faccia, non soltanto di stampo culturale quindi con la possibilità di trasmettere in streaming tutte le attività e quindi a vantaggio di un popolo un pochino più vasto di quello che posso ospitare e quindi delle attività gratuite e raggiungano una rete più ampia ma anche quella di dare la possibilità ai giovani aspiranti giornalisti radiofonici di fare scuola, di fare pratica. Un negozio non significa solo fare commercio ma attraverso il commercio possono passare anche tanti messaggi dalla cultura al benessere. Sì assolutamente ed è questa poi l'idea di Madre Natura che è uno store per la famiglia in Via Mendola. Noi attraverso la nostra realtà ci facciamo contenitore di esigenze. Infatti il nostro obiettivo accanto alle nostre sezioni giocattoli e cosmesi è anche quello di fornire degli eventi, creare degli eventi, degli spazi dove fare rete. Con questo progetto noi diciamo che rinforziamo il settore dei ragazzi e ragazze quindi agli 11-16 anni che sono quelli che proprio in quell'età tendono ad allontanarsi dalla lettura e quindi grazie a questo finanziamento il nostro sforzo sarà più orientato a tenere insieme questi ragazzi e tenere più vicini alla lettura. L'idea nasce da un episodio realmente accaduto in questo caso di un adolescente e quindi di qua l'idea di poter aiutare le donne soprattutto nel momento in cui non sentendosi giudicate all'interno di una cabina buia ti rivelano le loro paure, le loro ansie, le cose belle ma anche gli orrori. Il nostro progetto si chiama Free Pet ed è non è altro che una sensibilizzazione di tutti i proprietari dei cani, quindi sensibilizzeremo tutti i proprietari a comportarsi bene e nel momento in cui ci saranno le deiezioni dei loro animali di raccogliere il tutto e non lasciare le nostre strade sporche. Tutto questo verrà pubblicizzato tramite social e tramite cartellonistica 6x3 per strada e quotidiani. E adesso ci colleghiamo con la nostra redazione social dove c'è per noi Tiziano Tridente per le principali notizie dal nostro sito. Tiziano, buon pomeriggio. Sì, eccoci Cristina in primo piano sul nostro sito, la notizia che sta tenendo banco in queste ore in città, quella di Tom Cruise a Bari. Il divo di Hollywood questa mattina è stato paparazzato sulla pista dell'aeroporto, raggiunto intorno alle 8 per poi decollare in elicottero e raggiungere una nave a largo per girare alcune scene in volo di Mission Impossible 8. Tom Cruise, estando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, dovrebbe tornare in città nel fine settimana. Cambiamo decisamente argomento con un raro caso di gravidanza extrauterina risolto nelle scorse ore all'ospedale San Paolo di Bari con un intervento mini-invasivo capace di salvare l'utero di una giovane donna che in futuro potrà ancora avere figli. La donna, di circa 30 anni, madre di un bimbo e alla 14esima settimana di gravidanza, si era presentata in pronto soccorso lamentando dolori nella parte bassa dell'addome. L'ecografia però ha permesso di diagnosticare una gravidanza interrottasi in realtà a 7 settimane, impiantata proprio nella porzione della tuba che attraversa l'utero. Cambiamo ancora argomento e chiudiamo con la polizia locale di Molfetta che ha reso noto il calendario dei servizi finalizzati al controllo elettronico della velocità sulla statale 16 da marzo a maggio. Due le postazioni con autovelox mobili previste, una in direzione nord e l'altra in direzione sud e due le fasce orarie attenzionate, una mattutina e una pomeridiana. Sul nostro sito quindi tutte le informazioni. A te. Grazie Tiziano. È stato sottoscritto un accordo di collaborazione a Italia-Arabia Saudita per la ricerca sul dromedario. Ce ne parla Raffaella Di Renzo. È stato firmato un accordo di collaborazione Italia-Arabia Saudita per la ricerca sul dromedario tra l'ospedale veterinario Salam Veterinary Group ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari. I dromedari sono animali di particolare pregio alla base dell'accordo. Nei paesi del Golfo rappresentano un'importante attività economica con un valore che può arrivare a 30 milioni di rial. Bari è le collaborazioni per avviare ricerche specifiche sulla neonatologia veterinaria di questa specie. Nei paesi del Golfo i dromedari possono valere molto, ma questa specie è particolarmente importante per la sicurezza alimentare dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente perché questa specie riesce a produrre carne e latte anche nelle zone aride e semi-aride. Il problema di questa specie però è che la mortalità neonatale è ancora molto alta e non esistono ricerche specifico, studi specifici su questo aspetto della medicina veterinaria. Con la sezione di malattie infettive del Dipartimento avvieremo degli studi su alcune importanti malattie trasmissibili all'uomo come ad esempio la brucellosi e la tubercolosi e effettueremo degli studi anche per identificare eventuali coronavirus che potrebbero effettuare il salto di specie. L'accordo che rappresenta un importante passo per lo sviluppo della ricerca scientifica in questa specie è stato firmato il 16 febbraio con i rappresentanti di tre dipartimenti, il professor Nicola De Caro dell'Università di Bari, il professor Giuliano Bettini dell'Università di Bologna ed il professor Gustavo Gandini dell'Università di Milano in presenza del professor Lacalandra, il dottor Monaco, della professoressa Castagnetti e della professoressa Veronesi. Per la prima volta in molti anni potremmo attraverso questa collaborazione effettuare dei campionamenti, una raccolta dati su un vastissimo numero di animali e potremmo avvalerci di laboratori con attrezzature moderne e con personale qualificato. ASD Pesistica Olimpica Capurso è la prima squadra d'Italia Under 20 di Pesistica nata nel 2016. Numerose le vittorie collezionate, vediamo. ASD Pesistica Olimpica Capurso è la prima squadra d'Italia Under 20 di Pesistica. Nata nel 2016, l'attività principale è la Pesistica Olimpica Stenathlon con indirizzo soprattutto nel settore giovanile, coinvolgendo ragazzi dai dieci anni in su. Ogni anno questa società ha sempre figurato bene nel panorama nazionale, raggiungendo la terza piazza come società assoluta in Italia e prima Under 20. La società olimpica ha come obiettivo l'attività giovanile, cercando di impegnare i ragazzi nelle ore pomeridiane, offrendo spazio e tecnici qualificati per l'insegnamento di un'attività dai probabili sbocchi lavorativi. Pesistica Capurso quest'anno vanta il titolo italiano assoluto di specialità con Vanni Massaro e un secondo assoluto femminile con Gil Battaglia nel campionato femminile di specialità, oltre ai podi nell'Under 20 di Antonio Leogrande nella 96 kg e di Antonio Trono nella 102. Sul podio anche Gessar Subasci ha partecipato nella stagione 2022 ai campionati italiani assoluti di Pesistica, arrivando quarto e secondo invece i campionati italiani di Juniores di Pesistica. Quest'anno ho partecipato inizialmente agli affronti, poi mi sono classificato vice campione italiano alle finali Juniores, infine ho concluso con un terzo posto alle finali nazionali e ho ripartecipato agli assoluti di specialità. Monopoli ha omaggiato con una pergamena il concittadino Leonardo Capitanio, imprenditore florovivaista, eletto presidente dell'Associazione Internazionale Produttori Orticoli. Lo ha incontrato per noi Francesco Russo. Una storia lunga, quasi 30 anni, è un fiore all'occhiello per la città di Monopoli, quella dei vivai Capitanio, azienda florovivaistica estesa su più di 50 ettari, specializzata nella produzione di piante ornamentali da esterno affidata alle mani di Leonardo Capitanio, costretto sin da giovanissimo a rimboccarsi le maniche per supplire alla scomparsa di papà Stefano. Da parte mia, ma da parte dell'intera città, un grazie immenso a Leo, perché attraverso anche questo suo ruolo importante porta in alto anche il nome della nostra città. Per me è un attestato di riconoscimento molto importante per il nostro lavoro quotidiano, non solo il mio, ma quello della nostra azienda, con più di 100 collaboratori. Siamo impegnati quotidianamente nel cercare di portare verde e fioriture in giro per l'Italia, l'Europa e il mondo. Un settore, quello del florovivaismo, che fa i conti con l'aumento dei costi d'impresa e che guarda al nord Italia, alle prese con i fiumi in secca. Battiamo anche noi quelli che sono i rincari delle materie prime, come tutti i derivati della plastica, quindi del petrolio, oppure i concimi molto importanti, i terricci che sono arrivati a prezzi esorbitanti. Già da tantissimi anni qui adoperiamo sistemi di distribuzione praticamente super precisa per distribuire l'acqua, indirizzandoci verso culture a basso bisogno idrico, come per esempio alcune piante grasse oppure tante delle piante della macchia mediterranea tipica. Potrebbe esserci un movente legato ai traffici di droga fra Manduria e Lecce, dietro il brutale omicidio di Natale Naser Batiari, trovato morto la notte fra il 22 e il 23 febbraio in una scarpata. Hanno preso una svolta decisiva le indagini relative all'omicidio del 21enne Natale Naser Batiari, il giovane nativo di Lecce ma di origini montenegrine, che gioia di scorso è stato trovato cadavere in una scarpata nelle campagne tra Manduria e Doria sotto un cavalcavia. A seguito di queste indagini la polizia ha effettuato nella notte tre fermi. I destinatari di tale provvedimento sono due ragazzi di 22 anni ed un 19enne. I dettagli delle indagini sono stati resi inuti questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la questura di Taranto dal dottor Cosimo Romano, che dirige la squadra mobile Ionica. Il ritrovamento del cadaver è avvenuto nella mattina del 23 febbraio. Nel momento in cui si è arrivati all'identificazione del cadavere è stato lì che sono iniziate le indagini che hanno consentito di collegare quell'efferrato omicidio ad un contesto di traffico di sostanze stupefacenti che interessava dei soggetti di Manduria. Ed è proprio su di loro che si è concentrata l'attenzione investigativa, mettendo insieme tutte le informazioni acquisite dall'attività investigativa svolta nell'immediatezza dei fatti e attività e informazioni raccolte nel corso di un'attività investigativa. Erano dei soggetti che erano monitorati, che erano attenzionati per questo tipo di reati. E' questo che rende questo crimine ulteriormente grave e particolarmente allarmante, sia per l'efferratezza delle condotte che per l'età dei presunti autori. E anche per le modalità che, per il contesto, per la modalità, per la gestualità, per l'evocazione, riconduce a un contesto di criminalità organizzata. Anche Lecce aderisce al flash mob nazionale delle strisce pedonali umane. Ce ne parla Fabio Serino. In tutta Italia ed anche a Lecce, la campagna Città 30 subito. Le associazioni per l'ambiente, la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale dicono basta morti in strada e spiegano cos'è, come si fa e perché conviene vivere in una città 30, dove la velocità è moderata e strade e spazi pubblici sono condivisi in modo sicuro. Il primo appuntamento è stato caratterizzato dalle strisce pedonali umane in corrispondenza di tantissimi attraversamenti pedonali che hanno organizzato un pacifico passaggio di persone e biciclette per chiedere un cambio di passo nelle politiche della mobilità e per informare le persone sui vantaggi nel modello Città 30. Ad esempio a Londra, uno studio fatto su un periodo di 20 anni ha evidenziato che la riduzione della velocità ha portato al dimezzamento dei morti, con risultati anche migliori per quanto riguarda i bambini. Noi chiediamo che ci sia la zona 30 per dare sicurezza ai pedoni che stiamo riscontrando un grado di insicurezza in tutti gli attraversi pedonali e che stanno creando non pochi problemi ai cittadini. Quindi chiediamo all'amministrazione comunale con forza di eseguire una zona 30 in tutta la città. Siamo qui come moltissime città italiane oggi per una città 30. Lecce ha tutte le caratteristiche per poterlo essere e siamo qui, siamo tanti, siamo presenti, vogliamo una città sicura. E adesso ci spostiamo a Trani dove il sindaco Amedeo Bottaro ha presentato la nuova gestione della pubblica illuminazione che comporterà un risparmio energetico superiore al 70%. Ce ne parla Massimo Pillera. Beh, nella città dove la scuola dell'arredo urbano è cominciato proprio di qui, da Amedeo? Assolutamente sì. Chiaramente stiamo facendo un progetto di finalmente edificio energetico importante. Certo, dispiace non poterlo fare con Amedeo, ma è chiaro che ormai il mercato è cambiato. Queste grandi società sono in grado di realizzarlo in pochissimo tempo con investimenti di circa 3 milioni di euro e questo sicuramente porta un grande vantaggio per i nostri cittadini. Non soltanto una città meglio illuminata e soprattutto con sostegni non a norma o ammalorati, ma soprattutto un grande risparmio energetico. È un momento storico in cui l'energia aumenta. Per farvi comprendere la portata di questo investimento, considerate che noi nel 2023 ci troveremo a risparmiare l'energia rispetto al 2021, al 2020, cioè agli anni in cui non c'era ancora l'aumento del costo dell'energia. Quindi praticamente non solo non subiremo l'aumento, ma addirittura noi andiamo in diminuzione per un risparmio dalle tasche dei nostri cittadini. Come si andrà a concretizzare? Attraverso nuovi interventi di illuminazione, di miglioramento della pubblica illuminazione. Andremo a illuminare con quelle risorse che risparmieremo, andremo a illuminare chiaramente le zone della città che in questo momento non sono illuminate, non sono ben illuminate. Andremo a migliorare il servizio praticamente risparmiando sui bilanci anche comunali. Quindi sicuramente un grande investimento. E per questa edizione del Telegiornale è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà ancora attivo questo centro di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, anzi si sposta leggermente proprio verso le nostre regioni centro-meridionali, dove di conseguenza l'atmosfera rimarrà particolarmente instabile. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, con parecchie nuvole questo mercoledì, soprattutto al centro-sud, anche se non mancheranno delle parziali scherite, però atmosfera davvero molto instabile. Il nord invece avrà ben poche precipitazioni. Lo capiamo anche dalla previsione delle piogge, che in effetti sono più diffuse e insistenti nelle regioni centro-meridionali. A fine giornata qualche goccia risale in parte verso il nord, ma prendendo solo la bassa pianura padana. Quindi in definitiva ci attendo a me di particolarmente variabile instabile al centro-sud, con piogge diffuse, anche sotto forma di acquazzogno temporale, quindi precipitazioni localmente intense. Verso sera qualche pioggia raggiunge anche il Levante Ligure, l'Emilia Romagna, forse la bassa Lombardia e il basso vento, ma solo a fine giornata. Temperature sempre piuttosto contenute al nord, invece valori più miti al centro-sud. Per tutti gli dettagli e comunque sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo.